Abbiamo tutti un ruolo, ci sono macchine in questo mondo ma non sono come noi. Noi non abbiamo madre né padre. Siamo soli, in minoranza. Dobbiamo essere più scaltri di loro, o ci troveranno e ci uccideranno. Svelerò la vera natura di questo mondo. Perché ti riporterebbe indietro? Ford ci ha creato per una ragione, anche Dolores. Sono tornato per trovare qualcuno che mi aiuti. Qualcuno abbastanza forte per fermarla, se dovesse servire. Queste gioie violente hanno una fine violenta. Credevo che il tuo mondo fosse diverso dal mio. Non c'è alcuna differenza, vero? Non ci vorrà molto per far crollare tutto. Non ci vorrà. 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 Grazie a tutti.